Ha detto che il motivo per cui non vuole uscire con Armando, non vuole continuare con Armando, Edgardo non ha risposto al numero di telefono e che vuole parlare con te. Come dico io? Allora, deve parlare con me Maria, la sera prima dell'ultima registrazione. Lei mi ha chiamato e mi ha detto, Diego, ho capito di aver sbagliato con te. Il pomeriggio? La sera, il pomeriggio. La sera mi ha fatto la via chiamata. Ho capito di aver sbagliato con te. E d'egoismo che l'hai riconosciuto e questa è una cosa che io ci lavoro. Ti vorrei, non voglio perderti, anche perché mi vedo in un futuro a Roma, aprirei anche un centro estetica a Roma. Ma questa è una cosa che avevo detto già... Queste sono le due parole. Io vengo qui, mi metto seduto, inizio per raccontare cosa mi ha portato a pensare che volevo chiudere con te. Tu la prima cosa che fai, Tina dice, e tanto lui fa così con tutte. Sì, sì, è vero, fa così con tutte. Ma come, il giorno prima mi dici che tu me vuoi, non me vuoi perdere, che hai capito che avevi sbagliato, che sei stata egoista. No, 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 quando tu mi hai detto chiudo con te, io ho detto abitando. A te lei interessa ancora? Io sono venuta a poco con questi buoni proposti ieri. Come chimica, a livello di volevo andare avanti alla conoscenza perché mi piaceva stare con lei, lei può confermare che ci stavo bene. Grazie. 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 Grazie.